Tissol Lady, eleganza, storia e precisione. L'orologio da polso Tissol Lady si presenta come un autentico capolavoro di orologeria, incanalando l'eleganza, la grazia e la precisione svizzera in un design raffinato e femminile. La linea Tissol Lady è stata concepita per soddisfare le esigenze delle donne alla ricerca di orologi eleganti e precisi. Caratteristiche distintive del Tissol Lady. 1. Design elegante. Il Tissol Lady si distingue per il suo design raffinato, con una cassa sottile costruita con materiali pregiati come l'acciaio inossidabile, l'oro e i diamanti, creando così orologi di lusso destinati a resistere alla prova del tempo. Il quadrante delicato è sempre ben leggibile, arricchito da dettagli curati. Gli indici e le presentano forme variegate, soddisfacendo i gusti più esigenti. 2. Movimenti precisi. La precisione è al centro di ogni orologio Tissol Lady, grazie ai movimenti svizzeri di alta qualità che garantiscono un cronometraggio impeccabile. Questo elemento essenziale contribuisce alla reputazione di Tissol come produttore affidabile di orologi precisi. 3. Diversità di modelli. La linea Tissol Lady offre una vasta gamma di modelli, ognuno con un tocco unico. Tra le opzioni disponibili ci sono orologi al quarzo o automatici, varianti con l'inclusione di pietre preziose e molte altre personalizzazioni. Questa diversità permette a ogni donna di trovare un Tissol Lady che rispecchi la sua personalità e il suo stile. Esplorando alcuni modelli Tissol Lady. 1. Tissol Everytime Lady. Il Tissol Everytime Lady si presenta come un segnatempo luminoso, minimalista e chic, adattandosi alle preferenze di chi lo indossa. Con una varietà di modelli di quadrante e opzioni di cinturino, questo orologio consente di esprimere la propria unicità. Il sistema di cinturini intercambiabili a sgancio rapido offre la massima versatilità, permettendo di cambiare stile senza alcun attrezzo. 2. Tissol T-My Lady Automatic 18K Gold Bezel. Il Tissol T-My Lady è la controparte femminile del Tissol Gentleman, condividendo l'arte dell'orologeria di qualità che caratterizza Tissol. Il suo design elegante è impreziosito da una lunetta in oro 18 carati, conferendo carattere. L'introduzione del nuovo movimento automatico offre fino a 48 ore di riserva di carica, caratterizzato da una spirale a magnetica Nivacron. 3. Tissol Oveli. Lo straordinario Tissol Oveli trasmette pura classe grazie alle dimensioni piccole ed eleganti della cassa rotonda, estremamente femminile. Le versioni con bracciale in metallo o con diamanti aggiungono un tocco glamour, mentre quelle con un raffinato cinturino in pelle riflettono un fascino irresistibile. La sua eleganza senza tempo e la qualità svizzera garantiscono che sarà un compagno di fiducia per molti anni a venire. testimone dei momenti più preziosi della vita di ogni donna.